Di Giovanni, qual è la problematica immersa negli ultimi tempi qui alla casalbergo dell'IMP-DAP-IMPS di Pescara? Hai detto bene, IMP-DAP-IMPS, oggi solo IMPS. La casalbergo è una struttura naturalmente dell'IMPS, proprietà dell'IMPS, ed ogni tot anni, tre o quattro anni, si fanno le gare di appalto per la gestione appunto della parte assistenziale, sanitaria, ristorazione, portierato. In questa fase, purtroppo, nonostante le assicurazioni che l'IMPS ci aveva dato in fase preventiva, gli enti gestori che hanno vinto l'appalto ci hanno comunicato che non è possibile salvaguardare tutti i livelli occupazionali, ma se proprio lo devono fare, devono riproporzionare e quindi andare in una riduzione di ore per quanto concerne il personale. Ed è evidente che noi su questo non siamo assolutamente d'accordo. Quali sono i prossimi passi che farà il sindacato, d'accordo ovviamente con le maestranze e con i lavoratori? Il sindacato unitariamente farà il passo, domani abbiamo già un incontro presso l'ispettorato del lavoro e speriamo che l'IMPS sia presente perché al primo incontro del 13 è stato presente, purtroppo l'incontro scorso del 23 non lo è stato e siccome ci hanno detto che la struttura può ospitare fino a 120 ospiti e l'equilibrio finanziario si raggiungerebbe tra 70 e 75 ospiti e oggi ce ne sono 58, domani noi chiederemo all'IMPS naturalmente di accelerare le procedure di ingresso per riportare questa struttura almeno 70-75 ospiti per evitare appunto la riduzione degli orari di lavoro o addirittura l'esubero di personale. È un'avvertenza complicata e grossa, insomma la porteremo avanti e se in sede di ispettorato domani non ci sarà accordo è chiaro che alzeremo il tiro e andremo sicuramente anche dal prefetto. Quanti sono i lavoratori interessati da questa avvertenza? Sono circa 60-70, tieni conto che questo è un global service, quindi stiamo parlando dei lavoratori e lavoratrici che fanno assistenza e sanitaria e ci sono lavoratori che fanno parte ristorazione e mensa, ci sono lavoratori del portierato, quindi complessivamente stiamo parlando di questi numeri, 60-70 dipendenti.